Con la proroga a gennaio 2024 slitta la chiusura dei cosiddetti tribunali minori abruzzesi al centro del disegno di riordino della geografia giudiziaria italiana che ha disposto la chiusura di decine di tribunali con l'obiettivo di tagliare la spesa, accorpando le sedi giudiziarie periferiche a quelle dei capoluoghi di provincia. Il via libera del governo è arrivato ieri, dunque le strutture giudiziarie di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto potranno essere ancora operative fino alla fine di dicembre del 2023. Tutti i concordi parlamentari abruzzesi di tutte le forze politiche che esultano all'indomani della proroga, consapevoli però che si tratta solo di una prima battaglia vinta a favore del territorio, le cui esigenze sono infine state assecondate dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, alla quale da più parti era stato prospettato lo scenario insostenibile che si sarebbe venuto a creare in caso di chiusura dei quattro tribunali minori. Di vittoria da far fruttare fino in fondo parla il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, qualcosa in meno dei due anni richiesti ma molto di fronte allo spettro della soppressione definitiva che sarebbe scattata a settembre. Ora, ha continuato il Governatore, dobbiamo proseguire nella comune azione per arrivare a una soluzione definitiva. Dello stesso avviso anche il Segretario regionale di Fratelli d'Italia, Etelvardo Sigismondi. Oggi ha vinto lo spirito di unità che la politica abruzzese è riuscita ad attuare ma la necessità è di proseguire da subito con lo stesso lavoro di squadra. Non è stato facile, affermato il deputato abruzzese della Lega Giuseppe Bellachioma, segretario della Commissione Bilancio di Montecitorio, evidenziando i disagi del territorio legati agli eventi sismici e alla conformazione geografica dell'area. Dal centrodestra anche il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, plaude al risultato ottenuto grazie al pressing costante di tutti i parlamentari abruzzesi e alla Ministra della Giustizia, che non è rimasta sorda alle esigenze della nostra regione. Soddisfatti anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, relatrice del decreto 1000 proroghe alla Camera dei Deputati, parla di un deciso passo in avanti nella lotta alla salvaguardia degli uffici giudiziari insieme a Carmela Grippa, che condividendo il risultato ottenuto con i colleghi Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo, annuncia che ora il tempo della proroga sarà fondamentale per istituire un tavolo ministeriale. Non si tratta solo di aver guadagnato tempo, ma di inserire finalmente il caso Abruzzo all'interno della complessiva revisione della geografia giudiziaria italiana. Ha dichiarato Camillo D'Alessandro, deputato e coordinatore regionale di Italia Viva, e di grande lavoro di squadra parlano anche i parlamentari del Partito Democratico. Uscivamo da una brutta disavventura perché analogo emendamento in Senato era stato prima approvato e poi stralciato dalla Casellati. Qui alla Camera è andata diversamente, ha dichiarato la deputata Stefania Pezzopane, perché il Governo ha espresso parere positivo. L'emendamento approvato questa notte è un risultato delle iniziative politiche, istituzionali e professionali di tutta la comunità abruzzese, che ha contribuito con il proprio significativo apporto di collaborazione, ha aggiunto infine il senatore PD Luciano D'Alfonso, che parla di ulteriori iniziative per scongiurare ulteriori rinvii. E intanto, alla luce di questa proroga al 2024, gli avvocati delle quattro città interessati dalla chiusura rimandata hanno revocato il maxisciopero di 1.500 avvocati degli ordini professionali di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano, programmato dal 21 febbraio al 1 marzo.